Tornano le cose belle di Prato, la seconda campagna di raccolta fondi promossa dalla cooperativa Prato Cultura e dall'associazione Artemia, che consentirà anche per questo Natale di regalare a familiari e amici un pizzico di Prato e allo stesso tempo aiutare la città nel restauro delle superfici esterne di uno dei suoi simboli più preziosi, il Duomo. Credo che sia importante che la città prenda consapevolezza che ciò che deve custodire non è semplicemente appannaggio solo ed esclusivamente della Chiesa, ma anche di tutti coloro che hanno a cuore la custodia, la conservazione di ciò che la storia ci ha trasmesso. E ringrazio soprattutto Prato Cultura e Artemia che si è fatta interprete e ha continuato un'iniziativa che in questo senso si colloca proprio a custodire anche e soprattutto la nostra cattedrale. Sette gli oggetti che possono essere acquistati, tutti i prodotti tipicamente locali, fatti a Prato da aziende del territorio. Avremo una sciarpa 100% pratese, produzione dell'azienda Filtre Fabritex, avremo il Vermouth di Prato che è un prodotto, è un liquore tipico pratese che è esportato in tutto il mondo, avremo il profumatore d'ambienti della Wally e le tovagliette americane della cooperativa Margherita, oltre alle nostre tipiche opzioni, quindi le visite guidate con l'Associazione Artemia e la Tessera Social Artemia, la guida per adulti del Duomo e la guida per i bambini della nostra cattedrale. Il Duomo di Prato è la nostra casa per noi pratesi. Abbiamo accettato questo invito di Artemia per fare questa collaborazione anche del nostro piccolo, però è molto importante. Nel frattempo cercheremo anche di sensibilizzare nel nostro mondo pratese del Tessile altre aziende per vedere di riuscire ad avere un maggior numero di proventi. Gli oggetti devono essere prenotati contattando Artemia. Contattateci per telefono, scriveteci, passate a salutarci e prenotate. Dopodiché a partire dal 4 di dicembre sarà possibile venire appunto nel nostro ufficio per acquistare e materialmente ritirare tutti questi oggetti.